Abbiamo subito pareggio e secondo gol penso che abbiamo sbagliato, fase difensiva, abbiamo cercato di recuperare, abbiamo avuto anche possibilità, ma è la seconda partita di fila che ci viene negato rigore, troppo sono due volte che hanno deciso gli arbitri la partita. Poi secondo tempo cercavamo di recuperare, ma una squadra avversaria comincia a perdere tempo, si sono persi i paloni e quindi non abbiamo trovato più ritmo di poter continuare. Ancora una volta però vediamo giocatori che magari non vanno all'attacco come magari piace a lei o come sotto di 2 a 1 magari anche a 10 minuti dal termine ci si aspetta? Eh ma di nuovo c'era rigore, abbiamo preso palo, più di questo non si può fare, ripeto come il gioco è stato spezzettato non si è giocato più, è difficile trovare ritmo e posizione. Ecco però ritorniamo magari sull'1 a 0, c'è stato comunque un calo di tensione che ha permesso al potenza di ritorno in partita? Non credo, abbiamo fatto dietro errore sul secondo gol, prima ha fatto bene allora anche se la palla lunga era da chiudere. L'altra volta mi ha risposto in maniera diplomatica oggi però lo dice che rigore c'era? Ma io l'ho detto anche l'altra volta che c'era, l'ho toccato al portiere, questo era più netto e purtroppo l'albitrino non lo vede. Comissario, è preoccupato di questa situazione? Non sono preoccupato perché la squadra cerca di giocare, ripeto siamo entrati in campo volendo fare la partita l'abbiamo fatta, poi avversario sicuramente c'è questa palla lunga che ci può mettere in difficoltà perché mancano due centrali titolari, siamo stati in difficoltà su palla lunga. Hai in mente già la cura per riprendersi da queste tre sconfitte consecutive? Ma io non mi devo curare, mi devo cercare di continuare a giocare e continuare a giocare per fare i risultati che purtroppo per ora non sono arrivati ma la squadra ci sta vicino. Ci sono domande da studio? Ecco Lello Scarano ci chiede, è abituato a vedere, siamo abituati tutti a vedere le squadre di Zeeman che non mollano mai, invece forse manca proprio questo a questo gruppo oggi. Allora bisogna vedere la partita, ripeto all'ultimo non si poteva giocare perché la palla fuori o portiere alla fine va ferma o se sono messi in angolino a perdere tempo, è difficile trovare il ritmo di giocata, uscire puliti. Di nuovo studio. Sta constatando dei limiti a livello caratteriale della squadra? No, no, carattere anche oggi l'hanno dimostrato, hanno voluto fare la partita, ripeto, secondo tempo non si poteva perché non c'era ritmo, la palla fuori o ferma o dal portiere che perdeva tempo, è difficile poi trovare ritmo per poter attaccare, per poter andare. Questa era un'ultima battuta amara, Cupone lo volevate voi, non solo il dispiacere di non averlo visto in maglia rossonera ma oggi il doppio dispiacere. Vabbè si sapeva che Cupone è il giocatore importante, purtroppo non siamo riusciti a prenderlo, ha preso potenza.